Salve a tutti amici e completiamo anche il Sacrario di Tenmaten, non serve un tutorial in realtà, è un altro di quei Sacrari in cui basta andare sempre dritti, prendiamo subito il baule e poi andiamo a completarlo. Ma come ho detto in altri video, volevo per completezza portare tutti i Sacrari di Zelda che riesco a trovare, perché sono veramente, veramente tanti. Mi sto accorgendo che è un gioco veramente infinito, ormai ce l'ho da tanto tempo, lo sto portando avanti quando ho tempo, ma ogni volta saltano fuori missioni, cose da esplorare, ora sto cercando di esplorare anche il sottosuolo, insomma è qualcosa di incredibile, di veramente, veramente lungo. E sono quei giochi AAA di cui vale la pena pagare il prezzo perché te li puoi godere fino alla fine, che sono infiniti, ce ne sono altri, si pagano tantissimo e poi finiscono subito. Ecco, questo non è uno di questi, ma comunque andiamo a completare anche questo Sacrario e ci vediamo al prossimo video.